La TGR Sicilia dunque si era consolidato il collegamento tra Boss e Gregari, fra Torretta e New York, affiliati alle cosche inviati da un lato all'altro dell'oceano. Traffico di droga, inquinamento degli appalti pubblici tra gli affari del clan. Nell'operazione dei carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, 11 gli indagati, 9 sono in carcere. E' coinvolto anche uno degli emissari del super latitante Matteo Messina De Naro. Il servizio di Giuseppe Marino. C'è gente che si avrò nel delitto di dire che ha condizionato... Andiamo in appositamente in America. L'asse Palermo-New York torna centrale nelle dinamiche di Cosa Nostra, lo conferma l'inchiesta di DDA e carabinieri di Palermo con 11 indagati, 9 di quali finiti in carcere nella notte. Sono i vertici della famiglia mafiosa di Torretta, i cui legami con i clan italo-americani sono testimoniati dalle intercettazioni. Grazie a queste alleanze la famiglia voleva tornare forte, come prima dell'avvento dei corleonesi di Riina. Un boss della famiglia Gambino era venuto apposta in Sicilia, ospitato in una villa con annessi piscina e cocaina. Il potere della famiglia, capeggiata da Raffaele Di Maggio, è dimostrato anche dall'influenza sugli appalti da Carini, a Isola delle Femmine Capaci, e anche sulle amministrative del 2018 a Torretta. Il comune è stato poi sciolto per mafia. La famiglia mafiosa di Torretta, gestito sia la fase della campagna elettorale dell'elezione amministrativa del comune di Torretta, finalizzata poi ad averne un ritorno economico attraverso l'appoggio e la concessione di lavori. Della famiglia faceva parte anche Lorenzino Di Maggio, il postino che smistava i pizzini di Matteo Messina Denaro. Ma ancora una volta una penetrazione opprimente nel tessuto economico della comunità e un inquinamento anche delle istituzioni locali.